Per la vigilia a Natale e alla Befana l'appuntamento è alle piscine comunali. È lì che le 15 mense dei poveri di Bari concentreranno gli sforzi quotidiani per offrire un pasto caldo. In fermento le parrocchie e i volontari, Croce Rosse e altre associazioni benefiche saranno guidate dalla Caritas. C'è da fronteggiare l'aumento record di bisognosi, oltre un migliaio al giorno. Agli extracomunitari, ai senza fissa dimora, ai barboni, si uniscono i nuovi poveri dall'Europa. Francesi, tedeschi, ex mariti e impiegati di casa nostra ridotti a dormire in auto. Tra le novità la nuova struttura di Santa Chiara che oltre al pranzo offre socializzazione e momenti ricreativi. Hanno bisogno di famiglia, hanno bisogno di trovare i microcircuiti sani che li liberano dalle dipendenze, dalle fragilità psicologiche, molte hanno delle ipoteche psichiatriche. A lavoro in vista delle feste è anche la mensa di San Rocco. Abbiamo una quarantina di volontari che hanno organizzato questo incontro, non con grandi cose da mangiare ma più che altro da grandi momenti da vivere. Saranno feste più dure e sofferte per vecchi e nuovi poveri. Il disagio sta aumentando il numero dei giovani, tanti giovani. Cerchiamo di trovare sempre delle soluzioni, di non farle arrivare alle menze e ai dormitori. Stiamo creando delle reti proprio per tirar fuori queste persone, non farle entrare.